Io credo che davanti a questa situazione non esiterà nella prossima audienza tra pochi giorni, non esiterà il giudice di sovveglianza a ritirare questo provvedimento. Il legale di Doina Matei Nino Marazzite è convinto che presto la polemica si sgonfierà e la sua assistita tornerà ad usufruire del regime di semilibertà così come previsto dal codice penale dopo che si è scontata metà della pena. Per ora la trentenne romena che nove anni fa uccise Vanessa Russo colpendola in un occhio con la punta di un ombrello non potrà più abbandonare il carcere la mattina per farvi rientro la sera. Il presidente del tribunale di sorveglianza di Venezia ha annunciato infatti che la misura alternativa è stata sospesa in attesa dell'udienza che si terrà tra una trentina di giorni. Le foto pubblicate online dalla ragazza romena durante le ore di libertà dove appare spensierata e felice non sono piaciute. Soprattutto la famiglia della giovane colpita a morte al termine di un litigio per futili motivi avvenuto ad una fermata della metro di Roma. Il padre Giuseppe ha raccontato che sua moglie si è ammalata, ha tentato perfino di uccidersi e vive grazie ai farmaci. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della giustizia Andrea Orlando. La concessione del beneficio alla giovane romena era stata condizionata rispetto di specifiche prescrizioni lasciando intendere quindi che postare foto su Facebook va oltre le libertà consentite e proprio sui social si è scatenata la reazione di chi non ha gradito gli scatti e se l'è presa contro una condanna a 16 anni ritenuta troppo blanda. Voglio dire, alle persone che dicono 16 anni sono pochi, ma quanti ne darebbero e con quali criteri? Ecco questo è il punto. Per l'associazione Antigone invece siamo di fronte ad una caccia alle streghe, mentre per il presidente dell'Unione Camere Penali, Beniamino Migliucci, una foto sorridente postata su un social non è motivo sufficiente per sospendere il regime di semilibertà. Federico Sisimbro, Sky TG24